Da venerdì 6 a domenica 8 aprile torna Sapori di Primavera, un grande evento dedicato al mondo delle eccellenze della campagna padovana con agriturismi, associazioni micologiche e degustazioni di prodotti tipici. Nonostante abbia 14 anni la manifestazione, ogni edizione è sempre una novità, il programma di quest'anno dura un giorno in più per cui veramente un fine settimana dal venerdì alla domenica con 41 aziende provenienti da tutto il territorio della provincia che si raccontano, raccontano loro stesse, raccontano i loro prodotti e raccontano quindi i territori che compongono la provincia di Padova. I prodotti sono proprio a disposizione dei consumatori che potranno appunto oltre che conoscerli perché i produttori agricoli sono molto attenti e molto sensibili proprio a raccontarne la provenienza, il sistema di coltivazione, il sistema di raccolto ma potranno essere degustati e quindi eventualmente se piacciono anche acquistati al momento quindi direttamente dalla terra al consumatore. Ci sono delle aree agricole all'interno della nostra città, ci sono anche alcune produzioni, questo weekend potremo scoprirne alcune assieme alle tante altre produzioni che vengono dalla provincia ed è una bella occasione per conoscere i prodotti che vengono fuori dal nostro territorio che spesso neanche conosciamo.